Con il rimedio tra i più collaudati, il panno bagnato in testa, attaccati alla bottiglia d'acqua, sotto gli ombrelloni del bar con una bibita fresca o a mollo. Così i baresi affrontano la canicola del sabato pomeriggio in città. E c'è già un bel colorito. Mi posso lamentare. Viene spesso? 3-4 giorni a settimana. C'è una scelta venire al mare di pomeriggio? Forse, perché di mattina il sole non si può stare al sole. Dopo un pranzo, dopo la penichella, dopo il più simpatico. A pane e pomodoro c'è chi fa pranzo o merenda considerata l'ora con la classica focaccia e chi invece si era organizzato. Vi vedo organizzati. Voi avete pranzato qui? Sì, sì, abbiamo pranzato qui. Come resistete al sole di mezzogiorno e adesso del pomeriggio, primo pomeriggio? È tutto gratuito. Non si paga il sole, si sta bene e quindi non hai più pensieri. A mezzogiorno sto con un panino. Stasera un piatto di spaghetti ci vuole. Ma la signora ne vuole sapere, pazienza. E quindi? Che si mangia oggi? Niente, panino. Sul fronte del look resiste la moda dello slip soppiantato, secondo le riviste specializzate dal boxer quest'anno. Dilemma che qualcuno risolve arrotolandolo. Ho letto che quest'anno è tornato di moda il boxer. Lei resta fedele allo slip? Certo. Nessun imbarazzo? No, anzi, è un piacere indossarlo. E le signore restano fedeli al bikini, di tutte le fogge e con tutti i fisici, magari adattandolo all'unico imperativo davvero categorico, la bronzatura. Come fa sotto questo sole terribile? Ce la faccio. Resisto però andando in acqua.